Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora in questo video vi voglio parlare della mia esperienza cioè di quello che penso io su che età è preferibile diventare genitori Tenete presente, perché devo tenere sempre presente che c'è sempre chi mi vede per la prima volta quindi non sa nulla di me magari si imbatte proprio guardando questo video che io non sono mamma non sono neanche incinta non lo sono mai stata quindi in realtà è soltanto un argomento che mi interessa nonostante che non sono mamma perché fino adesso io ho visto video come il mio fatto però di ragazze che casomai sono mamme quindi alla fine si mettono a fare questi video proprio perché dicono sono mamma quindi mi piace condividere la mia esperienza con altri però io non sono mamma almeno per ora poi in futuro che ne so si vedrà per ora non sono mamma lo ammetto per me è una bella cosa cioè nel senso nel senso che io preferisco ecco prima andare a convivere o sposarmi con il mio fidanzato e poi casomai pensare ai figli non fare il contrario e tutto quindi secondo me è anche una bella cosa però adesso tornando a questo video secondo me l'età ideale per essere genitori è intorno ai 30 anni che vada bene ho detto intorno ai 30 anni ma non vorrei che ci sia qualche persona che dice che pensa che io abbia detto dai 30 anni in su cioè intorno ai 30 anni può significare anche l'età che ho io 27 quindi alla fine è così allora perché ho detto intorno ai 30 anni? perché secondo me quando si è troppo giovani in un certo senso di non avere esperienza oppure diciamo le tappe però poi alla fine ti rendi conto che non eri pronta per far ma perché casomai sei ancora una figlia oppure ti vuoi ancora divertire vuoi fare altre cose e quindi così io mi ricordo no di una volta che stavo in un negozio con i miei genitori quando ci stava una ragazza che secondo me non aveva più di 20 anni questa ragazza molto giovane con sua figlia che aveva circa una un certo bambina ha cominciato a piangere proprio piangere a urlare cosa avesse perché intendo di cosa qui sia la bambiglia quindi che io sarò mai in grado di capire con i figli di un'altra persona diciamo così cioè le mamme hanno tutto un intuito che capiscono tutto magari si doveva cambiare il pannolino magari aveva fame non lo so il fatto sta che questa mamma invece di far qualcosa per calmare la figlia magari dirle che c'è calmati che hai fatto cioè stava col telefono praticamente a giocare che ne so se mandava messaggi a chi se stava veramente a giocare se stava guardando le cose se stava però c'è dico io tua figlia piange tu l'hai voluta fare perché almeno che se non si tratta di una ragazza che è stata violentata ma non credo che sia il caso di questa ragazza qua però dico tu hai voluto fare la figlia quindi ma tua figlia piange te ne assume le responsabilità perché io non dico che se la mamma avesse fatto qualcosa diciamo così tipo avesse detto alla figlia mo calmati che hai fatto oppure l'avesse presa in braccio l'avesse cullata avesse fatto qualcosa la figlia avrebbe smesso di piangere perché io non dico questo però perlomeno far vedere anche alle persone che tu mamma stai facendo qualcosa per tua figlia per farla smettere di piangere cioè però se tu te ne freghi giustamente io per educazione mi sono stata zitta però avrei tanto voluto dire due paroline perché non è così che secondo me una mamma si dovrebbe comportare poi invece le mamme che fanno i figli diciamo da vecchie diciamo 45-50 più o meno caso mai poi succede che quando il figlio magari a 50 magari una mamma ce la può fare ancora però magari dopo quando il figlio avrà 20 anni tu mamma ne avrai quanti 70 cioè alla fine è come se fossi in realtà una mamma nonna cioè io non voglio dire che sia sbagliato o altro è soltanto una mia opinione personale chiaramente io chiedo che se ci sono ragazze che guardano questo video che hanno avuto i figli presto che non si devono offendere questa cosa perché magari li ha avuti tardi perché secondo me non c'è un'età giusta per fare i figli perché esistono sempre le eccezioni cioè nel senso che io conosco ragazze che casomai a 16 anni sarebbero state più responsabili di quella ragazza che ha lasciato piangere sua figlia oppure ci sono mamme che diventano appunto mamme cioè mettiamo a 60 anni una cosa che sarebbe impossibile però esistono dei casi che al di là del fatto casomai sono meglio di chi magari lo fa più giovane cioè non vuol dire quindi l'età una cosa è certa che secondo me per essere genitori i figli si fanno in due prima di tutto secondo luogo si deve essere pronti per farlo ad esempio ma io ne approfitto anche per raccontarvi di un episodio che mi è capitato anni fa in cui io stavo in un gruppo praticamente di mamme cosa ci facevo io in quel gruppo non lo so perché a quei tempi non ero neanche fidanzata quindi figuriamoci io in un gruppo di mamme sapendo che comunque anche se volevo un figlio non potevo mai averlo perché non ero fidanzata e alla fine c'è stata una ragazza che ha detto il mio fidanzato non vuole avere un figlio mentre invece io si e praticamente praticamente io mi sono permessa di commentare ho detto prima di tutti i figli si fanno in due poi non è bello avere dei figli se non si è sposati praticamente sono stata derisa dalle altre ragazze gruppo perché chi mi ha detto ma tu c'è una mentalità dell'ottocento non è avere una mentalità dell'ottocento giustamente giustamente come faccio a spiegarvelo allora se io per esempio io sapete che non vivo col mio fidanzato mettiamo non posso fare i figli con lui perché non viviamo insieme cioè alla fine che facciamo cioè facciamo i figli magari per ognuno vive a casa sua cioè una famiglia così separata giustamente sbagliato quindi come minimo si dovrebbe convivere però ancora di più meglio diciamo è meglio se si è sposati perché se si è sposati praticamente è anche più semplice fare parecchie cose secondo me e poi c'è stata una mamma che ha detto eh il padre del mio bambino se n'è andato ci ha lasciato soli però io sto con mio figlio sto bene io però non sarei felice al posto suo cioè alla fine non lo so poi non so che problemi ci hanno quei ragazzi che mettono in cinta le loro donne e poi se ne vanno cioè hai fatto il danno quindi alla fine tu devi rimanere secondo me è come minimo cioè hai fatto il danno poi sono le ragazze che comunque ci avranno i mille problemi e purtroppo pure io li avrò un giorno tre mesi di nausea il pancione che cresce notti insonne poi che altro ah vogliamo parlare dei dolori del parto del travaglio e tutti gli altri sintomi cioè alla fine i problemi li avremo noi e quindi noi abbiamo tutto il diritto di avere i nostri uomini vicini secondo me bene ragazzi questa era la mia opinione e quindi ci rivediamo al prossimo video e quindi ci rivediamo